Buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete statale e autostradale, da segnalare solamente rallentamenti sulla statale Aurelia, Garavicchio, a causa di un incendio e intervento dei vigili del fuoco in entrambe le direzioni. In Fipilì invece si richiede solamente attenzione, innanzitutto a causa del vento forte che sta coinvolgendo il tratto compreso tra Firenze e Livorno e fare attenzione anche a pedoni su strada tra San Miniato Basso e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. Chiudiamo con i treni il regionale 2340 diretto da Roma Termini a Pisa Centrale, viaggia con 45 minuti di ritardo, ferma a Livorno alle 16.40, arriva a Pisa alle 17.00. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!